Logos Web Radio Benvenuti su Logos Web Radio. In questa nuova puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, sentiremo l'intervista fatta a Patrick Wilde, membro della rete Noname, in occasione della primavera di Libera. La rete Noname è un'associazione antimafia nata da un'iniziativa di alcuni studenti dell'Università di Bologna. Durante l'intervista, Patrick ci racconterà delle attività di questa associazione. Siamo con Patrick Wilde, membro della rete Noname, associazione antimafia. Volevo chiederti come nasce la vostra associazione, come agite. Sì, salve. La rete Noname nasce dall'incontro di alcuni ragazzi di scienze politiche. Io sono comunque di giurisprudenza, sono entrato più tardi. Quindi da ragazzi di scienze politiche che iniziano a pensare che sia importante parlare di antimafia e di informazioni in generale anche al di fuori dell'ambiente universitario, comunque dalle aule. Iniziano ad organizzare incontri, principalmente con personalità legate all'antimafia, al mondo dell'informazione. Quindi l'incontro col magistrato Caselli, con Travaglio, con Rosario Crocetta. Tutte quindi personalità di spicco dell'antimafia, per cercare di avvicinare tutto l'ambiente universitario bolognese che non interessa solamente studenti fuori sede, ma principalmente anche studenti del luogo, ecco. Avete anche un osservatorio sull'informazione? In cosa consiste questo? Sì, l'osservatorio fa parte di uno dei gruppi in cui ci siamo divisi recentemente. L'altro è il settore racket-usura e l'altro ancora è il settore dedicato ai beni confiscati. A riguardo ognuno abbiamo seguito il lavoro di monitorazione. Riguardo all'osservatorio, ecco, consiste fondamentalmente nel ricercare tutti i fatti di cronaca inerenti alla nostra zona, Bologna, o comunque alla provincia, alla regione, e tutti i fatti riguardo alle infiltrazioni mafiose, dargli una sorta di forma organica per evitare che questi si risperdono, come spesso accadene in giornaletti locali o comunque in rete, quindi di poter offrire uno strumento di consultazione rapido, perché se vi siano al tema dell'antimafia. Qual è il grado di consapevolezza e partecipazione che avete riscontrato e riscontrate durante le vostre attività sul territorio? Solitamente quello dell'antimafia è un tema caro a molti, quale riscontriamo comunque sempre una grande attenzione e un grande interesse. Solo per dare un dato, comunque quest'anno sono entrati proprio in Oneima un'altra quindicina di ragazzi e quindi ragazzi tra l'altro tutti dei primi anni di università che contribuiranno a dare una continuità a tutta la nostra associazione, il nostro progetto sicuramente per i prossimi anni. E il pubblico a cui vi rivolgete come prende queste vostre iniziative? Partecipa? Diciamo che è un range abbastanza ampio, nel senso che parte dai più giovani, dagli studenti universitari, fino a finire ad adulti o comunque esponenti delle istituzioni, tutti sempre molto interessati al lavoro che stiamo svolgendo e anzi è capito sovente che ci chiedano collaborazione o comunque di darci notizie del nostro lavoro. E invece un'ultima domanda, per quanto riguarda i beni confiscati, come agite nel dettaglio? Allora, quello dei beni confiscati è un problema abbastanza particolare, nel senso che qui a Bologna sono 107 i beni confiscati, ovviamente divisi tra non destinati, tra assegnati però non utilizzabili. Diciamo che è oltretutto abbastanza problematico cercare di risalire alla storia giudiziaria del bene, del proprietario al quale è stato confiscato il bene. In particolare noi stiamo seguendo tutto l'iter di riassegnazione del bene in questione per poter alla fine vedere, sperare in un conseguente riutilizzo e riassegnazione per i fini sociali dei quali la legge 109 del 1996 prevedeva. Perfetto, grazie mille a Patrick Wilde per la rete in un aim. Grazie mille. L'intervista è stata curata da Giussi Gullo. Un saluto da Andrea Casati. Blogos Web Radio www.iblogos.it